Ben ritrovati, ormai da diversi anni l'associazione iCare mette in campo iniziative di solidarietà volte ad aiutare le famiglie bisognose del territorio. Per parlarne abbiamo qui con noi il presidente dell'associazione Marco Bruni. Allora Marco, tante le iniziative che mettete in campo a Grotta a Mare e non solo? Sì, come dicevi del progetto dei cacciatori di briciole, la sede legale è a Grotta a Mare ma noi aiutiamo famiglie su tutto il territorio, su tutta la riviera, quindi da Cupra fino anche a Porto d'Ascoli. E poi, spiego un attimo il progetto, noi da sette anni che è partito questo progetto ha doppia valenza perché combattiamo lo spreco alimentare raccogliendo cibo in eccedenza che andrebbe buttato, quindi da supermercati, negozi, attività anche imprenditori agricoli, che poi consegniamo a 70 famiglie di tutta la zona. Però recentemente ci siamo messi in rete con tutte le associazioni del territorio, anche della vallata proprio anche per aiutare meglio le famiglie, che si chiama OPS, Organizzazione Piceno Solidale. Poi parliamo anche della Banca del Tempo, Marco. Sì, la Banca del Tempo che è nata più o meno sempre sette anni fa da iCare, però non è volontariato, ma è un APS, associazione di promozione sociale, e in sostanza vuol dire che è uno scambio come un baratto, no? Quindi quando ci si iscrive si offrono dei servizi e poi tutto il resto viene come uno scambio, appunto come un baratto, senza soldi, ma semplicemente con uno scambio di ore. Allora, tra le ultime iniziative realizzate c'è quella delle scatole di Natale, magari se può fare un bilancio, e poi quali saranno le prossime iniziative? Sì, allora le scatole di Natale è la seconda edizione, l'anno scorso è stata la prima, e sono andate bene perché abbiamo raccolto 300 scatole, che poi in collaborazione con le parrocchie di Grotta a Mare, del comune di Grotta a Mare, ma anche la Misericordia, abbiamo consegnato all'incirca 200 famiglie, sia le nostre famiglie ma anche quello delle parrocchie, quindi sempre famiglie bisognose, e anche delle strutture come RSA e Case Famiglia. Che cosa contenevano queste scatole? Le scatole praticamente è una formula che poi dopo ognuno liberamente poteva adattare naturalmente, però contenevano soprattutto, noi abbiamo messo queste cose qui, una cosa dolce, una cosa calda, quindi tipo un paio di guanti, eccetera, un giocattolo, oppure nel caso di adulto ad esempio un libro, un passatempo tipo cruciverba, ma soprattutto la cosa che ci tenivano più era il biglietto che i bambini, insieme ai genitori, potevano scrivere ad altri bambini in stato di bisogno, quindi per noi è stato un progetto fondamentale, soprattutto per portare le famiglie, divertendosi con i bambini, a far capire cos'è la solidarietà concretamente, insomma. Allora abbiamo circa un minuto di tempo, se può illustrarci appunto le prossime iniziative di solidarietà? Sì, come dicevo, naturalmente i cacciatori di briciole sono sempre attivi, non andiamo mai in ferie perché le persone se hanno bisogno hanno bisogno sempre, la povertà non conosce né Natale né altre feste, insomma, quindi quella entra avanti anche l'anno prossimo e in quest'anno in corso. Un'altra cosa appunto, come ho accennato prima, importante per noi è questa rete OPS, di organizzazioni del piciano solidale, perché ci sembrava che soprattutto sulla riviera mancasse un ente del genere, un coordinamento fattivo tra associazioni che si occupano sia di povertà e di bisogno, ma anche altre associazioni culturali, associazioni che si occupano di animali, quindi proprio creare una rete di tutti gli ETS, di enti terzo settore, quindi del mondo del terzo settore, della vallata e della riviera, insomma. Allora Marco, in conclusione, per chi ci sta ascoltando, se c'è un riferimento per chi desidera darvi una mano. Sì, allora, riferimento ci potete cercare su Facebook con l'associazione Icare, oppure nel caso della rete potete cercare organizzazioni piciano solidale, oppure un sito internet che è assoicare.org, cercate associazioni Icare Grotto al Mare. Grazie allora Marco Bruni per essere stato in nostra compagnia, buon proseguimento su Radio Azzurra.